Patrizia, l'Associazione Mutamenti ha organizzato Poesity, un percorso culturale che si terrà a Crotone dal 13 al 19 febbraio. Perché Poesity? Poesity è la sesta edizione innanzitutto di un'iniziativa che vuole portare la poesia tra la gente come mezzo di riscatto, come mezzo di risveglio. Quindi anche quest'anno abbiamo pensato ad una serie di iniziative che coniugano però poesia, tradizione e innovazione. Quali saranno gli eventi? Allora, l'evento Clou si chiama Antologia del Centro ed è un'iniziativa a cui partecipano 15 poeti crotonesi e non che hanno composto delle poesie inedite sull'amore proprio per l'antologia. L'antologia sarà scaricabile attraverso QR Code sui negozi aderenti perché l'iniziativa è come ogni anno in collaborazione con Confcommercio Calabria Centrale e con la Gerardo Sacco. Non solo i clienti potranno scaricare queste bellissime poesie che sono state composte per noi, ma potranno inviare una di queste poesie come dono d'amore proprio nella settimana di San Valentino a chi vogliono. L'altra iniziativa qual è? L'altra iniziativa invece è un contesto poetico aperto a tutta la cittadinanza, si chiama C'è Poesiti per te. Metteremo un bellissimo contenitore all'interno di Parco Pitagola, ringraziamo Santo Vazzano per la disponibilità. Dal 13 al 19 sarà possibile imbucare un massimo di tre poesie per persona. Il tema è sempre l'amore e alla fine della settimana una giuria deciderà chi sono i vincitori che saranno premiati con un'opera del maestro Gerardo Sacco. Due iniziative che chiaramente vedranno il coinvolgimento di tutti coloro che amano la poesia. Sì, certamente, noi speriamo sempre di allargare il cerchio, di coinvolgere anche chi non è un appassionato di poesia, anche perché Antologia del Centro è il primo tassello di un percorso che vogliamo più grande, nel senso che questi distributori di poesie virtuali vogliamo distribuirli su tutto il territorio cittadino. Quindi partiamo ora con i negozi per arrivare poi anche ad altri punti della città.